Sono le 15 e 16 del 19 marzo 2024, ci troviamo al Comunico dei Marzi, sotto questa piccola palesia, ho percorso quel tratto da lì sotto sotto, sono acceso qui. Adesso, qui più avanti, vi faccio vedere una bella casa, non una bella casa, è una bella cosa, la cava è dismessa, quasi 60 anni, 55-60 anni è dismessa questa cava, diciamo che è più sicuro di 50 anni. Allora, costruiamo la montagna, proseguo qui, ecco qui, ecco la cava, vedete, quella è la cava dismessa, è molto ampia.